Ed ora la cronaca è di un deceduto il bilancio dell'incidente che si è verificato oggi poco dopo la galleria di Collurania sulla A24. Secondo le prime informazioni, per cause ancora in corso di accertamento, una Mercedes con alla guida un 52N Mauro Di Bernardo di origini terramane in servizio nella casa circondariale dell'Aquila si sarebbe scontrata con un camion che lo procedeva. Nell'impatto il guidatore della Mercedes ha perso la vita mentre il conducente del camion è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco di Teramo, il Coa dell'Aquila, che sta adesso cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Non si esclude l'ipotesi del malore per il 52N e l'accordoglio dei colleghi e dei sindacati di Mauro Di Bernardo.